Facciamo un brano che ha scritto il nostro caro amico, che parla, o meglio che non parla di uno che ha in campo il pazzo e quando sente questo ritmo, non riesce a stare fermo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì.